Ciao a tutti ragazzi, io sono Foren e benvenuti con la continuazione di Vinto & Monsters Allora, siamo agli scoccioli e questa parte sarà lunga perché farò vedere 5 duelli 5 duelli sono abbastanza lunghi da far vedere Così ho intenzione di fare, il duello inizia, però vi faccio vedere quando finisce Perché altrimenti sarebbe davvero troppo lungo, ci metterò tipo un'ora a deditarlo Ok, iniziamo prima con Flynn, così potete aver capito Ok, pronti a duellare? Duelliamo Ok, inizia lui Ok Eh, eh Allora, possiamo già Non ancora, non ancora Ah ragazzi, una cosa Io Non è che vi faccio vedere tutto quanto il duello, giusto una piccola parte Giusto per non essere troppo Ehi, dove vai? Per non essere troppo ripetitivo Cosa ho fatto? Cosa ho pensato soprattutto Che quando evocheremo la creatura preferita Non la farò vedere No, non cosa stai facendo Ok Uh, questo no? Ok, passa Quindi, anche se muore Eh, sì Anche se muore Riprendi in mano la creatura del tuo cimiter E la riprende quella maledetta Ok Non puoi evocare niente, perfetto A te ti cancello E l'altro, perfetto Dicevo Che la creatura preferita Possiamo evocarla E ve lo farò vedere Sia in attacco Che quando muore Mi sembra pure giusto farvelo vedere, no? Creatura preferita Nel prossimo turno la vedremo in azione Ma ora Ma che samurai ragazzi Che samurai Infine tu 13.000 ragazzi 13.000 Ti ho fatto male Caro Flynn Tu sei salvo Flynn Ha vinto Ora tocca a Rusty E a Caitlyn Ha Sapevo già che vincerà ragazzi Bast- Eh, sì Perfetto Bastardino Era il momento Di evocarti Proprio adesso Speriamo che anche lei Non ce l'abbia No, caspita Ci ha fregato Però Abbiamo un vantaggio Attacchiamo per più a noi Creatura preferita Abbiamo un vantaggio Tira Tira E anche Rusty ha fatto Ora tocca agli altri Ok ragazzi, ora tocca al look Il combattimento contro Sera Ok ragazzi Vai Ha delle carte da schifo lei Allora Lui lo teniamo Non me ne frega che va a cangiallare Gli avversari devono cangiallarle Non io E in questo momento Possiamo evocare Lui Se lei non evoca un mostro difensore Possiamo aver vinto Evocazione Creatura preferita Ah ragazzi, non può attaccare? Sì, può attaccare Proviamo, vediamo com'è Oh my golden Ragazzi l'avete visto? È grandioso Ho fatto bene a metterci questo L'è piaciuto Sera? Noi ancora scommetto Grande look Ok Ora tocca al 3 Faggiela vedere Ah inizi tu? Poi stardo Ah Grande Eh sì Creatura preferita Terminiamo col grande corno Uh in faccia Eh sì Ti giro la testa perché ti ha coppito in faccia Quindi C'è rimasta l'ultimo personaggio Che è Rebecca Contro il fattolo di Sera Sicuramente Sera Gli avrà regalato Al fratello Le carte Per farlo vincere Quindi sicuramente Sarà in vantaggio Però Non avrà questa fortuna Perché ci siamo noi Grandissimo Oh Almeno Ragazzi Abbiamo L'imbarazzo Della scelta Solo se Eccoti E adesso Non devo neanche Aspettare E farmi ridurre Come ho fatto Nei duelli precedenti Farmi sprecare I miei scudi Fino a 2 E devo care Tipo le creature preferite L'ho fatta apposta Stavo per perdere Ma Non è stato così Evocazione E creature preferita Wow Amico mio Concludi tu Ah il profilo Ci ha fatto vedere Grande Rebecca Congratulazioni È sbloccato Night Sciacchi Come avete potuto Delusere Dunque Il round finale Tra te E me Night Una culminante Guerra finale Tra titani Non credo proprio Diritti Utili La vittoria E il potere Delle creature Sono mie Non ho detto ciò Non duellerò Con te Non ne ho bisogno Ma lo farà Uno dei miei studenti Cosa? Molto bene Dunque Una battaglia simbolica Per stabilirlo Duelliamo Sì Ma tutti quanti Ti prego No Ragazzi Io c'eco uno Il più forte è lui Quindi c'eco lui Ma sei di Tenebre Giusto? Allora Dovevo mandarti Flynn Unisciti a noi Ok Basta No Proprio lui No Va bene Questo è troppo Questo me la paghi Sì Matrix Questa sarebbe la creatura Di Flynn Ma siccome noi Non l'abbiamo messo Perché era troppo debole Sinceramente Mille Non ci faccio niente Non ce l'abbiamo messo Addio Ah Amezzavo che piangevi Invece no Congratulazioni E' sbloccato Widow E' incredibile Sapevo che ce l'avresti fatto Solo il migliore Ben fatto Grande Rusty Non così in fretta Non mi permetterò Di andarvene così facilmente E' stata solamente La fortuna Che ha permesso A questi sciacchi Pieni coloni Di ottenere La vittoria Al torneo No No È finita Guarda tu stesso L'equilibrio è stato recristinato Torna a casa Vivian No Io non me ne andrò Fino a quando non avrò messo voi Pappetici Mocciosi Al vostro posto Una volta per tutte Con un duello Fin Tutti noi Contro tutti Io me ne tiro fuori Intesi? C'era un conto in sospeso E' stato saldato Durante il torneo Ma hai ragione È finita Almeno per ora Aspetta Dannazione Come osi Opporti a me Dopo tutto quello Che ho fatto per te Io ti ho reso potente Ti ho dato le carte E ne ho altre Sì Molto rare Super Per male Ma sì Ancora sconfigerli sì Un giorno Un giorno Vedrete Bella partita Già Bella partita Il torneo è L'equilibrio recristinato Tutto al vostro posto Focco Acqua Natura Luce Credo sia ora di due Andare Tantissimo Bel finale Faremo Faremo Yakuza Quindi se il video vi è piaciuto Mettete un mi piace Mettete un mi piace Scrivete un commento Iscrivetevi al canale Ma ok ragazzi Questo Dovevo dirlo Sinceramente Mi sono accorto di una cosa E anche un mio amico Tipo mi ha scritto E mi ha detto che Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale Foren vi ringrazia E ci vediamo Un prossimo video Ciao a tutti ragazzi